In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Devozione Mariana delle tre. Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, beneditta tui mulieribus et beneditus frottus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, beneditta tui mulieribus et beneditus frottus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, beneditta tui mulieribus et beneditus frottus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi figlioli di Radio Domina, buona giornata a tutti voi. Oggi è il 3 maggio. Abbiamo presentato il primo maggio la rossa, la Madonna, dicendole che l'amiamo, e ieri il 2 maggio il giglio, dicendole che è la nostra regina. Oggi, 3 maggio, quale fiore presentiamo alla Madonna? Presentiamo il fiore del gelsomino. Eccolo qui, il gelsomino, che è un fiore semplice, umile direi anche, ma che si trova peraltro dappertutto, a volte cresce anche in modo spontaneo, ma su tutto il gelsomino ha una caratteristica, fa profumo. Ecco, è un fiore molto profumato, piccolo, ma profumato proprio come la Madonna, figlioli cari. Pensate che bello. E lei è il nostro gelsomino oggi. La Madonna. La Madonna che è piccola, ma che è anche profumata. E di che cosa è profumata la Madonna? La Madonna è profumata di Dio. La Madonna fa profumo di Dio. Noi oggi, come giusto, nelle relazioni umane usiamo molti profumi. Credo sia giusto, perché non bisogna mai essere sgradevoli di fronte agli altri. Ma domandiamoci, possiamo riuscire a portare un po' del profumo di Dio che la Madonna aveva in sé? Ella era profumata di Dio, gelsomino di Dio. E c'è anche una tradizione qui dalle nostre parti in Sicilia, molto bella, che riguarda proprio questo fiore qui, il gelsomino. Oggi noi pensiamo a Maria come gelsomino di Dio, profumata di Dio. Ma questa tradizione vuole che quando la Madonna è fuggita in Egitto, perché Rodelo voleva morto il bambino e San Giuseppe è andato via, alla frontiera i soldati romani hanno fermato la Madonna che era in sella all'asino e teneva volto tra le braccia il bambino. E allora la Madonna è impaurita di fronte alla domanda dei soldati, si è lasciata a scappare l'espressione alla domanda che cosa porti, lei ha risposto Gesù mio. Ecco, i soldati hanno detto facci vedere, hanno aperto la coperta dove c'era Gesù bambino e hanno trovato migliaia, migliaia e migliaia di gelsomini. Ecco per cui la parola gelsomino qui dalle nostre parti sarebbe una esclamazione di Gesù mio, una bella storiella che ci fa capire come il gelsomino esprime, appunto ancora una volta lo dico, la piccolezza e il profumo. Che la Santa Vergine Maria, la piccola grande madre di Dio, che profuma di Dio, vi ottenga di trascorrere oggi, 3 maggio, una giornata serena. Sempre raccomando a tutti l'impegno a recitare per intero la corona con i tre rosari e offrirla per il raduno che faremo a Cavaglio Verenosa il prossimo 22 giugno. Deve essere una mobilitazione, dobbiamo far tutti i sacrifici per esserci. Papa Benedetto deve poter vedere che c'è un popolo che lo segue e che gli vuole bene. Benedicat vos, Onnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Che la Santa Vergine Maria, gelsomino di Dio, vi conceda una giornata serena. Amen. Avanti con Maria. Grazie a tutti.